Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo E diamo il benvenuto nella nostra postazione di Radio Bruno all'interno dell'area Stile ai Lost Frequencies Spaghetti Spaghetti, ok, very well Felix e Yannick che è il cantante di reality Also spaghetti, you know, sai solo la parola spaghetti Pizza Pizza, very good, molto buona So, speak about this huge success Questo successo incredibile, parliamone un po' Reality So, yes, so Yannick here sent me a demo on Facebook Allora, Yannick l'ha incontrato su Facebook And then we start to work together on the track E hanno iniziato a lavorare insieme a questa traccia, a questo singolo And we release a track and it's a hit E l'hanno realizzata, è una canzone di successo Short version, this is the short Ah, questa è la versione short All over the Europe Ireland, in tutta Europa Irlanda, UK, France, Italy of course In Francia, in Italia Could you imagine this success? Ve lo potevate immaginare? No, I didn't expect it No, non me l'aspettavo assolutamente I thought maybe in our, like in his home country Belgium and my Netherlands, but Pensavamo magari in Belgio oppure nei Paesi Bassi, insomma in Olanda But like worldwide Ma in tutto il mondo assolutamente no That's true Eh, è vero, è vero, ha ragione I'm not lying So guys, tonight on stage of Sanremo All'Ariston, questa sera sarete sul palco dell'Ariston Are you excited? Siete emozionati? Eh, I'm gonna guess what you said, but yes we're excited to go on stage tonight That's the question? Yeah, yeah, if you are excited to stay on stage Molto, molto emozionato And we're really looking forward to it We know it's a really big show Allora, abbiamo capito che è un grandissimo show conosciuto, Sanremo And so to be here as an electronic act is really cool E quindi fare una sessione elettronica per noi è davvero una cosa bellissima And we are honored to be here Siamo davvero onorati di essere qui And so after Sanremo you are all over the Europe You're in a tour Siete dopo Sanremo, sarete comunque in tutta Europa in tour Tomorrow I go to Paris Domani andrà a Parigi And the week after in Germania La settimana dopo in Germania After that Mexico and Texas Dopo in Mexico, poi in Texas Wow, all over the world In tutto il mondo Veramente figo, davvero So guys, thank you, thank you so much And could you say hi to all the audience Radio Bruno? Hi Radio Bruno, this is Last Frequency and Yannick And thank you everybody for all the support on Reality It's amazing, thank you Grazie 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 del supporto, di aver scaricato tutto quanto Grazie, grazie Grazie, grazie 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 No, noi siamo i migliori Thank you so much Thank you Bye Radio Bruno Grazie a tutti